buonasera simone simeri oggi debutto in serie b debutto con la maglia dell'ascoli come giudichi la tua prestazione e quali emozioni hai provato al del duca credo sia stato un esordio positivo mi aspettavo mi auguravo anzi un esordio magari con una vittoria ce l'abbiamo messa tutta però anche se così non è stato noi non abbassiamo la guardia andiamo avanti che partita hai visto e se c'è rammarico per aver portato a casa soltanto un punto sì c'è tanto rammarico perché la partita abbiamo fatto noi io credo che il chievo non abbia creato tantissime occasioni limpide da gol abbiamo creato molto di più potevamo fare meglio sicuramente e niente spero che già dalla prossima possiamo iniziare a parlare di altro cosa è mancato secondo te per trovare lo spunto vincente nel finale è mancato un po di cattiveria anche magari un po l'ultimo passaggio siamo stati diciamo poco cattivi sotto porta ma ciò non toglie che comunque dalla prossima dobbiamo mettercela tutta per portare a casa i tre punti ti sei aggregato al gruppo da un paio di giorni come giudichi la tua condizione fisica ma la mia condizione non è al cento per cento anche perché comunque la gara mi mancava da da un mesetto più o meno perché comunque a barri non ho avuto tantissimo spazio però a livello di allenamenti mi sono sempre allenato quindi mi manca un po la partita mi suol dire niente quindi andiamo avanti ci alleniamo per per stare al meglio che idea ti sei fatto dell'ascoli e quante chance all'ascoli di salvarsi dopo 14 punti nel girone di andata io sono arrivato da due giorni e credo che abbiamo un gruppo forte che in dieci anni che gioca a calcio non mi è mai capitato di arrivare in un gruppo nuovo ed essere accolto così ci sono tantissimi giocatori di qualità e credo che abbiamo tutte le carte in regola per portare diciamo a casa la salvezza grazie simone a voi grazie